Lei è buono, no? Mi metti il segno Allora, lo prossimo voi Ciao Guarda, guarda che gioco vuoi Noi non ti ammigliavo la mancia Però, giusto quando fai? Non devi dire entrare e aiutare Eh, va posì Ah, quando sei brullo? Ah, quando sei brullo? Dicevo Victorio Andre Capralis Peppere al lavoro Sì Liceo Vittorio De Capralis, Pepper a lavoro Ciao Pepper Ciao, cosa posso fare per te oggi? Vorrei entrare in un negozio di videogiochi, ho un'ora a buca Non c'è problema Ok, grazie mille, a dopo Ciao e a dopo Ah, finalmente sono arrivato E oggi vorrei investire un po' dei miei risparmi Buongiorno Pepper Buongiorno, come posso aiutarla? Vorrei acquistare qualcosa per la mia console Che gioco mi consigli? Buongiorno, come posso aiutarla? Abbiamo azione, sparatotto, picchiador o quale desidera Vediamo che è lei Vorrei un gioco d'azione Le consiglio GTA o Call of Duty, quale vuole? Vorrei GTA Va bene per l'ordino, le serve altro? No, basta così Grazie e arrivederci Buongiorno, sarei interessata a comprare un gioco Abbiamo azione, sparatotto, picchiador o quale desidera Vediamo che è lei Sarei interessata, ho un gioco sparatotto Le consiglio Smash Bros e Dragon Ball Quale preferisce? Vorrei prendere Dragon Ball Vorrei prendere Dragon Ball Va bene per l'ordino, le serve altro? Sì, va bene Le ripeto che come genere abbiamo sparatotto, azione, picchiador o quale desidera? Un gioco d'azione Le consiglio GTA o Call of Duty, quale vuole? Nessuno di questi mi interessa Posso aiutarle in un altro modo? No, non ho bisogno di altro, grazie Grazie e arrivederci No, non ho bisogno di altro